Facciamo questo fuori programma, dopodiché ritorniamo poi agli amanti delle cubi e compagnia bella. Io vorrei chiamare qua sul palco Igor, Igor è uno che fa sempre karaoke e canta sempre questa canzone e io sono orgoglioso. Vieni Igor, vieni. Igor, sembri uno che è appena uscito da amici, guarda, no, davvero, eh, nel senso... Igor. Allora, intanto ciao Igor, mi fa piacere che tu canti questa canzone. Quante ne hai te, Igor? 33. 33. Gli anni di Cristo. E guarda, te ne davo anche di meno, dire la verità. Allora, tu canti questa canzone, bambina mia. Questa fu la canzone che feci per la mia prima bambina, poi dopo è diventata un po' una moda ed sono nate tante canzoni per i bambini. Però questa qui fu una che cantai nel 2002, nel 2002. Ce la cantiamo insieme. Parto io o parto te? Parto te. Parto io, perfetto. Allora, maestro, vada. Al pianoforte, maestro Andrea Signiero. Tutti insieme, vada. Vada, vada. Piccolo favore. Amico! Sai che sono anni che non la faccio più? L'ho fatta il 4 di settembre, basta. Grazie. Parto io, ti parlo io, ti spiegherò la vita che cos'è, con l'esperienza degli altri miei. Ti parlerò di quello che io so. Io, qualcuno un giorno ci dirà Che il mondo ormai non cambia più Che tutto è brutto Non c'è di amore Tu non ci credi Che far male Mi amico, sei la tua visita Dovrai decidere Divendi Sempre la tua libertà La libertà che senti dentro il cuore La libertà di amare, amare, senza te ripiangi mai. Amami cosa io ho mai senza riservi, pensando agli altri quando tu muori. Aiuta sempre chi per sfortuna non ha di gioie che tu avrà. Amami la prima, nero i tuoi, posso essere un anno un padre niente. In ogni istante, se avrai bisogno, accanto a te mi proverai. Bambina mia, affronta la tua vita, vivendo alla giornata sempre, con tanta gentilità. Sarai l'orgoglio di questa mia avventura. So che sarai con te, grazie figlia mia dal tuo papà. Io, grazie, grazie. E in ogni istante, se avrai bisogno, accanto a te mi proverai. Bambina mia, affronta la tua vita, vivendo alla giornata sempre, con tanta gentilità. Sarai l'orgoglio di questa mia avventura. So che sarai con te, grazie figlia mia dal tuo papà. Ciao, piccola. Tu fai sempre karaoke? Ma c'hai tu karaoke, nel senso, possiamo invitare anche gli amici che vogliono farsi una cantata, una sera che non sta giocando nessuno. E una sera, io non pensavo di vedervi così tanti, nonostante ci sia segreto questa sera. Quindi, quando non sapete cosa fare, una serata magari è, andate a trovare Igor e vi fate una bella cantata. Canta che il certo aiuta, così si dice. Dov'è che ti possono trovare, Igor? A Dueville. Dueville il venerdì sera. Ok, a Dueville il locale come si chiama? Fugile del Bar. Un locale piccolo, però, qui c'è il Bar. Dopo faccio la domenica. Quindi, chi volesse farsi una cantata, vada pure a Dueville da Igor e vi farà cantare con tutta la sua semplicità e simpatia. Bravo, Igor! E continua così. È certo una delle canzoni che resta tanto a cuore. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Premete la disemoglia, che adesso questa cubica non è sta scoporando in tutta Italia. Quello che fa, para, 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 Grazie a tutti.